vorrei porre un quesito sono giovanna sono stata chiamata come psicoterapeuta dall'allenatore della squadra di rugby giovanile per aiutarli a risolvere un problema che sempre più spesso colpisce i bambini tra gli 8 e i 12 anni entrano in campo per fare allenamento iniziano a correre dopodiché si manifestano segni simili ad un attacco di panico ansia a mio parere occhi sbarrati rigidità qualcuno si rigidisce richiudendosi su se stesso questo è quanto mi riporta all'allenatore permesso che devo ancora scendere in campo per evitare sintomi puoi aiutarmi a capire le cause ho pensato immediatamente all'uso quotidiano è considerato della mascherina sommato ad aspetti psicologici legati ai fatti noti la gestione del respiro in questi casi è fondamentale e qualche idea consiglio da darmi allora è mio così suggerimento io non sono un psicologo io quindi non entro in alcune dinamiche che ovviamente di cui non ho competenze perché non ho studiato quello la mia carriera universitaria allora ma la mascherina non tanto secondo me direttamente quanto indirettamente può aver creato delle fobie generali non vorrei dare la causa alla mascherina perché perdonatemi dal 97 che uso la mascherina spesso nella mia attività medica e in letteratura non è che ci sono disturbi psicologici a medici per uso prolungato di mascherina quindi diamoli il giusto peso io valuterei più la componente psicologica legata a ragazzi di 8 10 anni si divertono o no prima domanda sono obbligati dai genitori o lo fanno perché gli piace terza domanda qual è il rapporto di squadra e il rapporto con l'allenatore perché se l'allenatore è un hitler ci avrei anch'io l'ansia perché faccio una cosa mi cazza subito insomma avrei molta ansia di allenamento quindi secondo me così a pelle valuterei gli aspetti ludici perché a 8 10 12 anni è vero che c'è l'agonismo però fondamentalmente devi fare una cosa che ti diverte perché faccio quello che faccio perché mi diverte se no non ha senso quindi capire se ci sono costrizioni psicologiche che vengono o dall'interno per tensioni emotive generate a casa o dall'esterno per disequilibri di compagni squadra allenatore e via dicendo ecco questo secondo me è una cosa un pochettino più plausibile perché non può essere normale un bambino di otto anni che va in campo a correre abbia degli attacchi di ansia uno può essere ci mancherebbe ma tutti la vedo un po più complessa questa è la mia personale opinione e allora come fare primo punto l'attività sportiva deve essere un'attività ludica farli giocare e quindi per esempio farli capire che attraverso respiro possono distrarli con respiro riscaldamento e farli giocare con respiro farli fare delle gare attraverso respiro fare a gara chi trattiene di più fiato fare a gara chi attraverso la cannuccia riesce a che ne so anziché giocare a rugby giocano a rugby con una cannuccia una pallina di carta una pallina da ping pong ok sto inventando dei giochi eh oppure il gioco del bicchiere l'allenamento in cui attraverso la cannuccia inspiri dal bicchiere e vince chi fa il campo da rugby in inspirazione trattenendo il bicchiere senza utilizzare le mani ma solo il fiato questo potrebbe essere un'idea e poi tutto quello che la parte mentale cioè imparare il ragazzino che magari prima dell'allenamento possiamo o dopo l'allenamento metterci una posizione fare alcuni esercizi di mobilità e respirazione questo deve essere un po un bagaglio che non entra nel territorio dell'allenatore ma coadiuva la figura dell'allenatore a quello che può essere un problema di natura mentale questa è la mia personale eh opinione noi chiamiamo educazione respiratoria bravissimo educazione respiratoria perfetto dove attraverso il gioco e il respiro lavori sulla mente e cerchi fare diagnosi perché poi magari il problema sta sto inventando nella nel genitore rompipalle che vuole che suo figlio sia l'eroe della squadra e mette a disagio tutti quanti come può essere magari in altre figure se secondo me sono più questi le cose da analizzare in quest'età che non una volta che abbiamo utilizzato eravamo su un camp col Barça e tu dici un bambino che sta lì no con la maglietta con la divisa no che si impressiona magari lì non svenivano non andavano sicuramente in shock o panico ma tu vedevi nella prima ora di attenzione dopo che ti sei svegliato hai mangiato sei andato al bagno hai fatto tutto stai lì ascolta il mister cioè stai lì con la maglia del Barça non c'era un bambino che respirava che stava in posizione corretta e niente chiaramente tu vedevi i primi mezz'ora 40 minuti di allenamento che erano pari a a zero a niente che non producevano niente è come il bambino a scuola seduto sul tavolino quando sta di lì e sta piegato lì tutto il tempo da mangiare sta ancora seduto lì tutto il tempo e fa una vita tutta in cifosi in chiusura e allora chiaramente io ai pazienti per cercare di farlo capi sempre gli dico sempre ma prendi conto che tu più che vive un anno e mezzo del covid hai vissuto più nove mesi in apnea dentro una pancia la prima cosa che hai chiesto era il respiro e solo che la gente pensa con tapina 10 capito sempre rimane detti e io dico abbine c'è anche la respirazione certo sono perfettamente d'accordo ma guarda io mi sto accorgendo ultimamente nella mia attività clinico medica che facendo diversi esami radiografici noi di base facciamo la teleradiografia laterale è impressionante il numero di bambini per bambini intendo dire la fascia dove io faccio gli esami radiografici ho nove anni nove dodici anni che praticamente hanno un appiattimento del racchide cervicale cioè non hanno più la lordosi cervicale sono piatti dritti cioè pazzesco è incredibile cioè è un avranno di quei problemi purtroppo di mal di collo purtroppo abbastanza importante purtroppo abbastanza importante